Non trovo un aiuto, non riesco a venirne fuori da nessuna parte, sia dal comune che dall'Ate, nonostante la mia disponibilità. Ho un debito di 16.000 euro che non so neanche come fare, non ho un reddito, non ho niente, però non c'è un riscontro da parte né dall'Ate né del comune, né dei servizi sociali. Tra gli inquilini delle case popolari del quartiere San Paolo c'è anche Maria Silvestrini, 52 anni, nata e cresciuta a Treviso. Da 23 abita nella casa che secondo il provvedimento di sfratto dovrebbe lasciare a gennaio. 600 euro di affitto quelli che deve pagare e secondo la normativa l'amorosità e il conseguente sfratto determinano il pagamento dell'affitto secondo il prezzo di mercato, quindi senza l'agevolazione che offre Ater, affitto che la signora non paga da due anni. 16.000 euro sono ammontati da specie condominali per una mia mancanza, perché è stata una mia mancanza, però ho passato un periodo di depressione, ne sono venuta fuori e ho cercato di rimediare. Altra storia, quella di Abes Lamouchi, 54 anni, quattro figli minori, di cui il più piccolo di un anno e mezzo, il più grande di 16 e diversamente abile, costretti a vivere in albergo. L'origine tunisina, da 24 anni a Treviso, ha perso il lavoro con il Covid e si trova ora senza casa. Lavoro sempre 17 anni a Venezia, nell'albergo, sempre fisso, regolare, però quando ho avuto il Covid, due anni, senza lavoro. Quindi a casa di integrazione, 700 euro, 650, ho pagato l'affitto, quasi due anni. E il sfratto, il 4 settembre, sono andato fuori e quindi adesso sono ospito nell'albergo. La comune, la stanza sociale ha aiutato una settimana, carità, due notti, il resto non pago io, sempre una sera, una notte, 136 euro. Situazione che a Bess e la sua famiglia non riescono più a sostenere. Da giorni, racconta, non mangia un pasto caldo, troppo alte, le spese per mangiare al ristorante. Dopo la richiesta per ottenere una casa popolare, ancora nessuna risposta. Dati alla mano evidenziano una situazione difficile, 700 domande per circa un'ottantina di case. È sempre una regola, tutto apposta, 24 anni che sono qua, mai c'è questo problema, però ho provato queste due notti che sono dormito in macchina con la mia famiglia, con le bagaglie, le valigie, tutti.